I vaccini sono essenziali, è sbagliato mettere in discussione la loro efficacia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto così in maniera netta su uno dei temi di grande attualità della sanità italiana. In Emilia Romagna la percentuale di bambini vaccinati è notevolmente diminuita negli ultimi anni e dal 2014 è scesa al di sotto del livello di sicurezza del 95%, soglia che garantisce la migliore protezione a tutta la popolazione. Nel 2015 la copertura per le quattro vaccinazioni obbligatorie ha raggiunto il 93,4%, in alcune aree poi tali coperture sono al di sotto del 90%. Peraltro hanno destato preoccupazione gli episodi di morbillo registrati dall'inizio dell'anno che in Regione hanno registrato tassi di incidenze elevate e gravi complicazioni. A poche ore dalle parole di Mattarella, quindi il Presidente della Regione, Bonaccini, è tornato sull'argomento ricordando che il progetto di legge della Giunta regionale sta per arrivare in aula e prevede l'obbligo per accedere ai nidi di infanzia di essere in linea con quanto previsto dal calendario vaccinale per l'età da 0 a 3 anni. Nelle prossime settimane approderà all'aula dell'Assemblea legislativa la nuova legge regionale che prevederà che le bambine e i bambini che vogliano iscriversi all'asilo nido della Regione Emilia Romagna dovranno essere vaccinati. Lo facciamo perché vogliamo tutelare il diritto alla salute per tutti a partire soprattutto dai bambini più deboli e lo facciamo perché siamo contrari alla scienza fai da te. Le parole del Presidente Mattarella ci rafforzano nella direzione in cui stiamo andando.